E salve a tutti i micicoperiani e bentornati in questo nuovissimo video Oggi siamo su un video dove parlo di Deadmatter Per chi seguiva, segue la community tab, sa che comunque ci stavo lavorando E per chi comunque ha seguito il primo video di Insurgency, non so ora quando è uscito Ma comunque avevo detto che avrei fatto un video di Deadmatter Dove avrei parlato di tutte le cose che ci saranno o almeno ci dovrebbero essere Alle cose a cui stanno lavorando Insomma ricoprivo tutti gli aggiornamenti settimanali che loro hanno rilasciato In modo da farvi un'idea di quello che ci sarà E volevo rilasciarlo diciamo il più lontano possibile questo video Aspettare più aggiornamenti in modo da fare diciamo un video, un bel video corposo Con roba interessante all'interno prima dell'uscita della close ed alfa Che teoricamente non siamo lontani dalla close ed alfa Loro hanno detto non oltre la fine di luglio Infatti sono vicini, hanno detto che hanno quasi risolto un problema che avevano E l'unica cosa in cui sono focussati adesso al 100% è per sistemare tutte le infrastrutture Tutta la gestione di rilascio delle chiavi pronte per la close ed alfa Quindi siamo veramente veramente vicini Un'altra cosa prima di iniziare Vi ricordo che in descrizione trovate il link al mio discord Al discord della community italiana di Deadmatter E a quello della community globale di Deadmatter E un'altra cosa dovrebbe esserci l'NDA nella close ed alfa Cosa significa? Che non si possono condividere foto o video del gioco Soltanto che ci è stato detto che probabilmente stanno parlando di Non far valere l'NDA per i partner Quindi come me Teoricamente sono l'unico canale italiano Che è un partner della Quantum Integrity Che sono appunto loro di Deadmatter E speriamo bene Insomma, se non mettono l'NDA per noi partner È sicuramente una cosa veramente ganza Perché posso farci video e sfornarne veramente tanti E mostrarvi il gioco e babababababababababab Non dilunghiamoci troppo, non so quanto verrà a lungo questo video, ci sono diverse cose di cui parlare e di cui andare avanti, quindi se magari in un minutaggio è venuto lungo prendetevi un bel bicchiere di whisky come io qui accanto o un bel tè e iniziamo. Allora, iniziamo col fatto che ci saranno gli NPC però non ci saranno gli NPC che si muoveranno per le strade, almeno per adesso, gli NPC li potremo trovare solamente nelle safe zone e che cosa potremo fare noi con gli NPC? C'è questo sistema di trading con gli NPC, non ho ben capito se è proprio trading, cioè te scambi o compri, però penso sia tutto, quindi scambi, compri e vendi e potrai fare ciò anche con i giocatori, almeno scambiare con i giocatori lo potrai fare. Ci sarà la personalizzazione del PG, qui hanno comunque già lavorato alle facce, le barbe, le varie cose, la mappa sarà espansa a 7,5x7,5 km che mi pare doveva essere un 5x5 se non mi sbaglio, quindi l'hanno aumentata di 2,5 km che non è poco. E hanno fatto vedere il claim delle case che si potrà fare anche se siamo in gruppo, come funzionerà? Voi comunque potete coprire le finestre di base con tipo il giornale, però se le climate tramite la scatoletta della corrente esce il tasto con scritto tieni premuto per climare e dopodiché potrete iniziare a barricare e a costruire le cose, quindi mettere le barricate alle porte, alle finestre, intorno, alla casa, quindi proprio i muri con la torrettina eccetera. Hanno sistemato tutto il sistema per l'abbattimento degli alberi, hanno sistemato le animazioni per delle nuove armi, un'altra arma che sembra tipo un Winchester e ci saranno anche delle caverne, ma non è detto che ci saranno cose interessanti all'interno e hanno detto che lo scopriremo nell'alpha. Poi hanno fatto sì che gli orologi funzionassero in base al tempo in gioco, quindi insomma se l'ora nell'orologio sono le 8 di sera probabilmente fuori è buio, sta quasi facendo buio, dipende un pochettino come sarà lì gestito un po', insomma appunto questa cosa però comunque l'hanno sincronizzato in base alla luce che c'è fuori, diciamo così. Hanno ottimizzato i veicoli come già ne parlavano nel vlog 11, hanno lavorato al sistema per far sì che la gente possa riempire le proprie tanniche di benzina dal distributore, quindi insomma se vi serve la benzina per il vostro generatore non è che dovete per forza trovare le tanniche piene ma potete andare al distributore e riempire la vostra tannica. Se ci sarà della benzina non so se sarà infinita questa cosa, non l'ho ben capita, non so manco se l'hanno detta. Poi hanno detto che accendere e spengere la corrente nella maggior parte degli edifici non sarà così semplice, soprattutto in quelle climate dai giocatori. Quindi qua fanno vedere nel video in cui te all'interno c'è lo switch, vai fuori, devi trovare il generatore, spengerlo, rientrare appunto non puoi più riaccendere la luce. Quindi a quanto pare bisogna trovare il generatore e spengerlo. Uno, un generatore lo metti in un punto molto intelligente e siamo a posto. Solo che non ho ben capito questa cosa del generatore. Ecco, perché disattivare la corrente di un giocatore? Perché puoi così climbare la sua base? Tipo come abbiamo visto c'era la scatoletta in quella casettina di legno. Probabilmente sarà così? Vedremo. Poi hanno lavorato al sistema di creazione del campfire e al suo mantenimento, quindi insomma la classica creazione del campfire e poi il suo mantenimento aumentendoci i vari legneti per continuare a tenerlo acceso e così via. Poi hanno lavorato a una pista di go-kart con annesso go-kart, è una cosa di cui avevano parlato e che sono molto contenti di metterla in gioco, quindi insomma siamo un gruppo di imbecilli e porca puttana. Se lo troviamo e giochiamo in un bel gruppetto ci facciamo una cazzo di gara se ci sono abbastanza go-kart e ci spezziamo. Poi hanno finito la pistola che è la Eberpistol e hanno fatto anche un R700, un Remington che sostanzialmente è un check-in, hanno fatto le animazioni, le text, insomma sembra che l'abbiano già finito pronto per la closet alpha. Hanno fatto due nuove safe zone, hanno anche lavorato al sistema di lock per le varie casse create dai giocatori, quindi mettendoci un lucchetto, qualsiasi cosa ci si possa mettere, un lucchetto sicuramente è la cosa più ovvia. Hanno fatto sì che il campfire si spenge se in mancanza di ossigeno, quindi pioggia o una nevicata bella pesante, ovviamente molto intelligente, non è che se piove giustamente, cioè se piove il campfire rimane acceso. Poi vabbè ancora safe zone, poi hanno lavorato al suono degli spari in base al luogo in cui vi trovate, quindi siete all'esterno, suona normale diciamo il fucile, siete all'interno rimbomba un pochettino, vabbè vi lascerò qua il video se riesco a mettervelo per bene e ve lo farò sentire meglio. Poi un giocatore potrà muoversi all'interno del veicolo, cioè muoversi tra i vari sedili, quindi lo guarda, tiene premuto il tasto e si sposta, quindi insomma molto utile se uno è davanti e vuole andare dietro per poter sparare meglio dietro, se qualcuno li sta inseguendo lo potrà fare. Hanno migliorato il sistema di lancio degli oggetti e hanno anche migliorato il modo in cui si espande il fuoco della Molotov, che dicono che è pericoloso per tutti, quindi infetti i giocatori e anche per voi stessi perché comunque hanno fatto sì che si disperde bene comunque il fuoco, se c'è un corridoio si disperde per benino e insomma lo hanno rielaborato molto bene. Hanno fatto la katana, quindi un'arma bianca anche se è più letale di un cazzo di cecchino tra un po', comunque hanno lavorato, hanno fatto una katana più insomma tanti altri tipi di katana esclusive, comunque hanno fatto diversi tipi di katana. Hanno lavorato i modelli facciali dei giocatori che poi diventano infetti perché mi pare che quando voi morite il vostro corpo poi si trasforma in zombie e dovrebbe vagare in giro con il vostro loot. Quindi ritrovare lo zombie, ucciderlo e ci sarà il loot, praticamente è così perché gli rimane attaccato. Poi hanno lavorato alle animazioni facciali degli NPC, hanno detto in modo che avranno un mood loro all'interno di questa disgrazia. Poi hanno lavorato a soluzioni diverse per barricare all'interno e all'esterno, ad esempio delle catene alle porte, delle barricate in legno o metallo per le porte, per barricarle meglio in modo un po' più pesante, poi comunque le barricate di ferro per le finestre eccetera. Hanno perfezionato il sistema di lip sync, quindi la sincronizzazione delle labbra con il VoIP, quindi con quando voi parlate le labbra si dovrebbero muovere. Non hanno lavorato a un sistema di motion capture facciale, ma hanno fatto tramite un sistema che manda in real input cose eccetera, insomma roba complicata, però sarà tutto procedurale diciamo, non è una cosa che è fatta con il motion capture. Poi hanno lavorato al menu della creazione del personaggio, quindi ci saranno gli attributi, tutte le skill, a quanto pare sembra anche le tipo di classe o ve lo personalizzate voi come volete o ci sono i vari settaggi di default per le varie classi diciamo. Però per adesso non ci sarà la modifica dei vestiti, hanno detto che è l'unica cosa che manca, quindi insomma avrete quanto pare tutti avremo gli stessi tipi di vestiti appena spawniamo, però sicuramente in futuro ognuno si potrà far mettere il suo colore di maglietta, il suo tipo diverso. Hanno fatto sì che i veicoli si possono bloccare, quindi non so, vabbè con le chiavi o con un lucchetto bisogna vedere, penso con le chiavi comunque così la gente non ve lo fotte. E hanno creato poi un menu interno per mandare feedback direttamente ai sviluppatori dall'interno del gioco, quindi è tutto molto velocemente, hanno creato la whitelist per i server, ci saranno delle fortificazioni dei nomadi a giro e fatto sì che i giocatori quando entrano all'interno di una safe zone l'arma i verrà abbassata automaticamente e diventeranno comunque anche invincibili, quindi se ci sarà un cecchino cazzaro in lontananza non vi potrà comunque fare niente, visto che ci potrebbe, insomma, magari non ho pensato c'è qualcuno abuserà di questa cosa e sono sicuro che qualcuno ci sarà o ci sarebbe stato che avrebbe abusato di ciò e hanno lavorato anche al sistema della randomizzazione di spawn dei veicoli. Poi hanno fatto questo sistema per proteggere le vostre scorte d'acqua, quindi hanno fatto un sistema per ricoprire tutti i vostri barili d'acqua per non farli congelare e poi hanno messo anche, hanno fatto anche questa stufettina per regolare la temperatura nella vostra serra, visto che ci stanno anche la serra per coltivare le vostre droghe. Poi hanno pubblicato all'interno il sistema di comportamento degli animali e come ultima cosa hanno lavorato, insomma, hanno implementato il poligono di tiro che comunque abbiamo visto in diversi video che hanno fatto vedere per il test delle armi e l'hanno reso proprio pubblico anche per i giocatori. Ora non so se è una cosa dove voi entrate nel menu e andate in poligono di tiro e provate le armi o comunque un poligono di tiro all'interno della mappa, però comunque hanno messo questo poligono di tiro per poter testare le armi. E questo, diciamo, è l'ultima cosa che per ora sappiamo di quello che ci sarà. Sicuramente è molto interessante questa cosa degli NPC con le quest e il fatto di poter scambiare sia con i giocatori che con gli NPC. Devo dire che potrebbe essere un gioco, diciamo, più o meno rivoluzionario. Da che punto di vista? Cioè, dal fatto che ha tante meccaniche di Tarkov, che tante meccaniche di Tarkov comunque sono belle come lo shooting, il modding delle armi, il fatto di trovare chiavi, soldi, perché le chiavi ti aprono porte, punti di interesse interessanti, schede per accedere tipo alle armerie, ma per magari arrivare all'armeria devi entrare nella stazione di polizia, trovare l'ascensore, riaccendere la corrente, arrivare là e fare tutte queste cose. Comunque è un gioco piuttosto completo se qualcuno si ritrovasse nella situazione del genere. E a me pare comunque che sarà, a me sembra, già un giocone adesso, un gioco super completo già in close ed alpha, sicuramente con tutti i suoi problemi, perché sarà comunque close ed alpha, non sarà early access, l'early access uscirà nel 2021, non si sa se inizio, metà, comunque uscirà nel 2021. E ovviamente per chi ci giocherà spero che non lo abbandoni per i suoi problemi, perché comunque sarà una close ed alpha, ecco. Però sicuramente sarà un bel giocone, se loro ci stanno bene dietro sarà un bel giocone. Mi dispiace un po' per il fatto che loro si stanno un po' fregando di noi partner, perché per chi ha seguito, non so se era uno o due mesi fa, vado a vedere, ben due mesi fa avevo fatto un post dove appunto vi chiedevo delle domande da fare agli sviluppatori perché noi avevamo la possibilità di fare delle interviste. Però non stanno caccando più nessuno per questa cosa, mi dispiace un pochettino perché comunque io ho detto, guardate, cioè, sono l'unico partner italiano dove posso fare queste cose, non tutti parlano l'inglese, sarebbe bello poter fare una cazzo di intervista con le domande che mi hanno chiesto e fargliela in italiano. Cioè, comunque, vabbè, o ridoppiata da me o comunque con i sottotitoli, ma almeno sarebbe stata una cosa veramente veramente bella, ma non ci stanno più caccando per questa cosa, ci hanno un pochettino messo da parte, però hanno detto che questo programma di partner si svilupperà, sarà molto interessante nel tempo andare. Quindi nulla, siamo arrivati alla fine di questo video, spero vi sia stato utile. In descrizione, comunque, nel mio Discord, proprio come prima, prima, primo canale, trovate quello degli annunci di Edmatter, che è collegato direttamente al loro Discord, quindi arrivano appunto quando loro mettano una notizia, arriva anche qua. Come anche nel server della community italiana, c'è in aggiornamenti, c'è il canale novità, e lì arrivano tutte le novità. Quindi niente. Di nuovo, spero vi sia stato utile. Se vi siete persi tutti, o almeno non tutti, diciamo, l'aggiornamenti settimanali fino al 17 luglio, l'ultimo che comunque vi ho detto le cose era il 17 luglio, io non ho messo tutto, 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 ho messo il 90% delle cose che hanno scritto, perché alcune magari erano cose un po' futili, ecco, come che stanno, hanno lavorato a nove i vestiti, eccetera, insomma, ho detto le cose un po' più succose, che potrebbero rivelarsi un po' più interessanti. E nulla, spero che sia un bel viaggio questo di Edmatter, qui sul canale con notizie o cose del genere. Per chi mi segue da Escape from Tarkov sa che non sono stato bravissimo con le notizie, purtroppo, per il tempo che ho, ma appunto ci potrebbe essere un bel progetto, se l'NDA non esisterà per noi partner, essendo che comunque sono l'unico italiano, ci potrebbe essere un bel progetto. Quindi niente, io di nuovo vi ringrazio, e niente, ci si vedrà al prossimo video, e chissà di che cosa sarà, magari sarà direttamente di un gameplay di Edmatter, comunque, se volete rimanere aggiornati, tutti i link in descrizione, anche dove acquistare il gioco, e niente, ci si becca, signori. Ciao, ciao!